E allora bisogna dirlo con forza ai nostri amici europei, o l'Europa è una casa comune con regole e valori uguali per tutti, oppure non è l'Europa quella che ci fa le pulci sul bilancio, che ti dice no ma qui vorrei controllare sul vostro terreno se avete fatto tutto, voglio vedere se il centimetro è stato rispettato e però contemporaneamente chiude gli occhi di fronte ai bambini che muoiono nell'estiva e nel Mediterraneo, non è questa l'Europa che i nostri padri hanno creato. E allora da questo punto di vista facciamoci sentire uguali doveri anche per voi, anche per noi, ma uguali diritti, uguali valori, uguali ideali, uguali sogni per quelli che verranno.